Ciao ragazzi siamo in un nuovo video, oggi vi faccio vedere le mie cose della Juve, buona visione! Il primo oggetto sono le cuffie della Juve, molto belle, come potete vedere qui c'è, le cose della Juve, sono piegabili, vedete le posso chiudere, c'è il filo, passiamo, vediamo, passiamo al secondo oggetto. Questo invece è il portascarpe della Juve, lo potete vedere, non l'ho mai usato come vedete, c'è ancora l'etichetta, molto bello e che ne dite? Passiamo al terzo oggetto, il soggetto di oggi è lo zaino mai usato, come vi dico mai usato, è molto bello, molto capiente, allora ragazzi passiamo al quarto oggetto. Raga, il cappello della Juve, questo è il quinto oggetto di oggi, questo l'ho usato, il cappello si usa, e passiamo al sesto oggetto. Questo è il portatablet, raga, portatablet della Juve, vedete c'è pure l'etichetta mai usato, è che ragazzi, passiamo all'altro oggetto. Come vedete la sciarpa dove c'è scritto Forza Juve, Magica Juve, tifosi ringraziano. Questa è la sciarpa delle due stelle e tutte le coppe che ha vinto la Juve. Ragazzi passiamo al prossimo. Ragazzi questo è la maglia di Neved. Come potete vedere c'è scritto Neved. Ecco passiamo al prossimo. Come vedete la maglia della Juve, maglia di morata, bella maglia, si indossa bene, stabilità, le darai 5. E passiamo al prossimo oggetto. Non ridi. Ragazzi, borsone della Juve, come vedete credo da calcetto, questo non l'ho mai usato ma l'ho legata. Molto bello, passiamo al prossimo oggetto. Questa è la maglia della Juve, come potete vedere è di Dybala. Ecco questa è la sciarpa della Juve, come potete vedere tutta griglia, bellissima. L'ho indossata, molto bella, molto bella. Di solito le sciarpe li impizzichiamo addosso ma questa no. Passiamo al prossimo oggetto raga. Ragazzi, pantalone di CR7 di quando è venuto alla Juve. Molto bello, si indossa bene. Passiamo al prossimo oggetto. Raga, la maglia, dopo il pantalone c'è pure nella maglia di CR7. Vedete quella lì della presentazione, passiamo al prossimo. Maglia della Juve di, della Juve, pigiama. Ragazzi, passiamo al prossimo gadget. Maglia personalizzata della Juve, con scritto con lo stemma lì e la scritta a Samuele. Passiamo al prossimo oggetto raga. Tero palestra della Juve raga. Bello. Passiamo al prossimo oggetto. Ragazzi, penultimo oggetto della giornata. Questa maglia della Juve è molto bella. E ora ragazzi, passiamo. Molto industabile, bella. Mi sto un po' piccolina, ma passiamo all'ultimo. Raga, ultimo oggetto della giornata. Maglia della Juve. Ora, questa è una bellissima maglia della Juve. Ragazzi, siamo arrivati pure alla conclusione di questo video. Lasciate due bel pollicioni e... Ciao!